buongiorno amici questa è la registrazione del live del 11 11 2023 e andiamo un pochettino a rilassarci con la tecnica e parliamo di casualità allora io adesso mi trovo nella cartella dei motori e mi trovo ad aggiustare un pochettino i motori elettrici no perché come noi sappiamo per le macchine industriali i motori elettrici sono proprio quelli più affidabili e che si può mettere nel processo è automatico automatismo no allora qua io ho tantissimo materiale in base a produttori costruttori di motori ed anche con documentazione che può essere excel e può essere word e pdf e via di seguito come alcuni di voi mi segue c'è sempre da migliorarsi nelle strutture e nel data management per questo è il computer mio personale non è quello che lavoro per l'azienda la ancora sono le cose ancora tutto più in ordine però anche qua anche qua non è messo male vedi io pian piano che che lavoro e vedo qualche cosa che manca vado e la giusto pian piano no e anche la struttura vado sempre a migliorarla metto sempre la prima parola in tedesco la seconda in italiano non metto quella inglese perché anche se mi piacerebbe ci ho provato ma poi il nome del file diventa così lungo di cui di cui non va bene essendo che non va bene e allora 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 ho dovuto eliminare la parola in inglese però qua piano piano cercherò anche anche a mettere italiano tedesco perché questo è il fremd luft il fremd luft sarebbe raffreddện d'aria no oppure forse fan in inglese però però se metto come aggiunto prima anche la travaille anche la parola in inglese hanno siamo rovinati perché non funziona ok non funziona perché a volte poi il file diventa così lungo che non è più non è più utilizzabile come voi vedete qua io raffreddamento d'aria c'ho il mol e il vegano e via di seguito poi c'ho di nuovo sold works c'ho anche multi multi card che sarebbe questo che sarebbe io quando ho fatto delle macchine che i fornitori mi hanno fornito mi hanno fornito sto motore e loro me lo mandano in step e io lo andrò a mettere nella parola multi card cioè che posso aprirlo sia con inventor sia con solid works e sia con con catia oppure soldecci via di seguito questi questi programmi che io ho citati sono i programmi che io lavoro ok però c'è qualcun altro pure che magari usa il quello di siemens non solo l'altro ancora come cavolo si chiama interessa poco ok va bene questi qua sono i programmi che io utilizzo stessa cosa quando andiamo a parlare di ppt sarebbe powerpoint è una presentazione che è stata fatta in powerpoint non per forza da me ma siccome io sono pro maestro e siccome ho sempre alunni che fanno lavori me li fanno a me me li passano e io li vado a vedere e poi giustamente sono cose cose didattici sono cose didattici che andiamo a vedere adesso insieme qualcosina vediamo se vado per la presentazione se sia su questo schermo invece no sia sull'altro schermo quello che non quello che non registra ecco questi motori elettrici è un lavoro in italiano e quando qua andiamo a vedere qua sono le presentazioni per adesso io non voglio andare in fondo sui motori elettrici però sono cose che mi interessano sono cose che sono argomenti molto importanti per noi anche se qua per esempio parli di un rotore di un motore sincrono perché c'è la corrente continua che si chiama in tedesco asincrono e il sincrono e via di seguito però questo faremo un altro evento che andremo a parlare veramente con qualche professionista che collaborano insieme e ne andremo a parlare più in là non oggi però per far vedere quello che noi un giorno possiamo parlare col gruppo tutte queste cose sono già pronti e via di seguito e sono cose carine sempre per chi ha interesse della tecnica ok sempre per chi ha interesse di queste cose e qua per esempio diciamo quando andiamo nel capitolo inventor se io vado in questa cartella e non vado a cambia niente lascerò il nome sempre inventor inv1023 cioè io qua ad ottobre ci ho messo mani la mia struttura dei file sono in continuazione miglioria e hanno sempre un miglioramento come poi dopo andremo a vedere nelle cartelle di macchine agricole e di macchina momento terra e di moto la o in piano già una nuova struttura che devo veramente valutare se fare questa questo cambiamento oppure no perché ogni volta che uno va a cambiare una cosa che fino ad oggi l'ha fatto in questo modo da oggi in poi cambierà non ha sempre solo vantaggi a volte si possono avere anche svantaggi però bisogna sempre valutare se il vantaggio è superiore allo svantaggio perché se viceversa non conviene fare il passo ok ti vai a creare solo lavoro inutilmente e niente ecco io quando vado a fare i cambiamenti se voi avete queste cartelle come erano cinque sei anni fa di sicuro non erano a questo livello e di sicuro fra qualche anno non saranno così allora noi adesso eravamo solo nella cartella dei motori elettrici quando c'è questo punto 23 io cosa ho sviluppato nella mia testa nel mio sistema di dati management ho collegato in vento andiamo ad aprire in vento oppure ho collegato in vento con i percorsi predefiniti e siccome io qua non posso più andare se vado a cambiare non posso più andare a modificare questo nome perché se vado a modificare questo nome il percorso di l'inventor mi dice guarda non funziona pausa caffè ragazzi un sorso per lo meno allora se io adesso ero nella cartella dei motori e mi trovo qua con il vento dove ero l'ultima volta memorizzato io so perfettamente che i motori si trovano sotto la cartella automotive stesso sistema simile sistema l'ho implantato nell'azienda dove lavoro io tramite il pdm con sold works e quando avevo fault pure così e stessa storia adesso noi ci troviamo qua da automotive siamo motori e quando c'è questa più vuol dire che c'è una sottocartella già da me predefinita vedete qua un pochettino allora qua abbiamo motori e abbiamo due tempi quattro tempo accessori motori e motori e motori e motori duttori no cosa significa e motori e motori duttore perché noi abbiamo i motori elettrici e motori con il il motori duttore che in tedesco si chiama che tribe motori però io non potevo mettere questo in che tribe motori perché sennò si trova più giù e non è bello perché mi piacciono avere le cose un pochettino abbastanza sincronizzate faccio vedere qua siamo ancora su inventa faccio vedere un pochettino quello che sto a dire vedi questo è e motori che significa motori elettrici e qua e motori duttori che significa motori duttori elettrici se io andavo a mettere qua in tedesco allora questo è e motori e in tedesco perché si chiama moto così no ci manca la e senza le e sono simile all'italiano però io qua questo motori duttore andavo a chiamarlo che tribe si andava più giù e non mi piaceva questa cosa è bello pure avere un pochettino diciamo qua faccio un'eccezione alla regola e questi sono i motori duttori anche se se alcuni sono vedete questi sono i motori duttori che per dire la verità qualcuno è un motore elettrico e adesso andiamo a correggerlo con voi così voi vi fate un'idea come lavoro io e di quello che vado a fare allora vedete qua io metterò una siccome ci metto mani l'ultima volta che io ho messo mani in questa cartella è stato gennaio 2020 oggi però abbiamo novembre 2023 tanta roba eh ci siamo e voi vedete che già all'epoca io più o meno avevo avevo più o meno questa struttura che adesso voi vedete l'ultimi tempi ho deciso che ogni cartella che io vado a toccare qua ci sarà la data attuale così quando vado a fare il backup vede automaticamente che cosa qua li va a prendere per il backup sta data e qua pure questa questo invece è un metti un ad come documenti no? che è non posso usare S come software perché questo è un calcolatore di di motore un software basato su su windows però il problema che era che andava solo fino a 32 bit adesso ormai abbiamo solo computer 64 bit io ce l'ho un paio vecchi che sono 32 bit e niente stessa cosa adesso però io siccome vado a fare un po' di pulizia nel motore riduttore qua vado a mettere a 13 16 e metto la data di adesso e cosa vado a fare pure siccome qua devo farmi un un backup e vado a fare un screenshot di questa di questa foto di questa cartella scusatemi e la vado a salvare in automaticamente nella cartella dove fare i backup solo qua vado a fare i backup a fine mese mi metto un'oretta e un'oretta massimo due tutte le cose che vado a cambiare vado a fare la sicurezza sull'altro disco perché io lavoro solo su dischi rigidi e portatili e però anche un disco va protetto e con un po' di sicurezza niente adesso cioè niente è molto importante scusatemi vuole dire adesso andiamo su questo discorso qua siccome questi qua a sinistra quello che vanno qua dentro sono tutti i motori elettrici e sono motori che io ho usato in quella data so per quali progetti ho usato non posso andare molto nel dettaglio a raccontare perché sono un libro anche un libro professionista e le cose private non vanno raccontate in un gruppo pubblico in un live pubblico allora andiamo qua mettiamo inventor 1123 ok cosa faccio? vado qua in inventor 1123 e scrivo B possibilmente in grande alcune alcuni file ce l'ho anche con la B in piccola adesso faccio questa cartella in grande perché io lavoro con i grandi no extra grandi però quelli grandi però siccome per farvi capire a voi adesso faccio extra grandi no? io automaticamente so che questi motori questi qua non sono motoriduttori e vanno qua dentro invece questo cosa faccio? questo lo vado a mettere qua che mi serve come foto che quando io vado ad aprire so di cosa parlo e questo va qua dentro e adesso scendiamo giù e abbiamo già ordinato la cartella ok? e questo era ho già perfezionato questa cartella e qua mi serve una foto per far sì che non c'è bisogno che io vada a poi quando tempo faccio un screenshot di questo motore e lo vado a mettere sia qua e sia sotto posso farlo vedere pure adesso come faccio lo faccio adesso così sapete di cosa parlo io adesso apro questo motore con Inventor e a breve Inventor me lo aprirà il primo pezzo che Inventor vada ad aprirmi impiegherà qualche secondo in più perché anche lui si deve svegliare e va a prendere tutte le cartelle di di stile editor workspace tutte le cose che siccome io quando cambio la data lui la prima volta che va a correggersi i percorsi impiega del tempo allora a me mi interessa tanto vedere se nella live se se registra bene la qualità è buona oppure no non saprò dire però quello che di sicuro quello che sto per registrare per per youtube che poi da youtube si può si può veramente vedere bene quello per lo meno va bene nel frattempo che Inventor va a caricarmi sto motore nel frattempo che Inventor va a caricarmi sto motore io continuo lo stesso con con il lavoro che stavo spiegando o più schermi o più cosa qua abbiamo qua qua abbiamo idea allora nell'idea R11-23 e abbiamo per esempio la definizione dei motori però qua c'è aspetta un po' qua siamo nell'idea di tutti i motori non siamo più di motori riduttori da che arriva questa cosa perché i motori elettrici sono qua dentro i motori riduttori sono qua dentro idea R11-23 sarebbe sono idee che possono essere per i motori a due tempi per i motori a quattro tempi i motori elettrici i motori navali motori a stella per scooter stirling il vangler il vangler l'ho studiato un paio di mesi fa questo vangler per me era sconosciuto ma non mi piace non neanche mi interessa e niente quando vado nell'idea per esempio c'è la Bechraibung che pure qua quando ho tempo io vado e aggiusterò qualcosina alcune di questi sono anche nel gruppo e vedi e questo è il desmo 4 l'evoluzione quella e quell'altro il mitico il motore educati e queste sono sono cose che io ho tanti interesse me le vado a vedere anche per imparare qualche parola in inglese anche per mi interessa mi piacciono i motori a me mi piacciono mi piacciono vedere i pestoni mi piacciono vedere le valvole mi piace vedere le bielle il quello che qua vediamo tutto il filtro olio la cannuccia diciamo per misurare l'olio valvole mi piace mi piacciono vedere è passione diciamo è passione mi piace e niente vediamo più svariati i motori il motore a due tempi è sicuro la prossima foto sarà quattro tempi e così però per esempio quando io poi ho del tempo e adesso per esempio ho visto questo motore questa foto di un motore a due tempi cosa faccio? vado ad aprire un'altra cartella perché appena Inventor è finito con quel pezzo che mi deve aprire faccio vedere quello che volevo fare prima per fortuna non c'è una buona memoria non mi devo ricordare non mi devo scrivere tutto per filo e per segno e faccio vedere quello che volevo fare adesso solo su un due tempi e anche qua abbiamo ideas anche qua abbiamo 11.23 perché qua ieri io ieri ho fatto un bel lavoretto con SolidWorks mi hanno preso un bel motore ah scusate con Inventor mi hanno preso un buon motore con Inventor un due tempi che poi credo che sarà un quattro tempi e e niente il ragazzo che l'ha costruito è convinto che un due tempi io sono convinto che un quattro tempi comunque è una cosa tra noi era questo motore qua comunque dove si trova adesso questo è l'onda super 100 engine questo qua lo vedrò più tardi con lui lo vedrò più tardi con lui devo vedere è interessante questo motore è interessante è stato riprogettato e adesso però io vado un po' indietro vado un po' indietro ragazzi e mi trovo nel motore a due tempi è idea R1123 questo è il motore Rotax nel Rotax non vado a toccare niente perché è già definito il motore Rotax e vado a mettere R R come le altre idee ma siccome io so che questo è il Rotax il Rotax lo vado a buttare là dentro e siccome adesso questo qua era questa cartellina la vado a prendere con drag and drop e l'ho trascinata non ho fatto una copia perché io un giorno qua devo pulire quando ho tempo è molto importante e questo adesso nella cartella dei due tempi si trova questa immaginetta che spiega il motore a due tempi e adesso questo qua è il processo che va a spiegare i sei tempi i sei tempi qua cose che io non ho mai visto io conosco due tempi e quattro tempi qua c'è un sei tempi sono cose che io però quando ho tempo li vado a studiare e vado questo fa vedere che è un raffreddato d'aria però poi sono cose che io vado a vedere e spostare nella cartella giusta due tempi quattro tempo questa è lubrificazione per esempio no questo fa vedere il circuito di lubrificazione e anche questa è lubrificazione quando ho tempo questo è un piccolo Yamaha che va in una manina quando ho tempo ci passo il tempo e li faccio e li faccio questo è un quattro tempi per esempio va a vedere la combustione del quattro tempi e siccome adesso questo l'abbiamo appena visto e per farvi rendervi conto a voi come lavoro io qua c'è Ideas vado a toccarla sia in questa cartella e gli dico 11 23 e sia qua vado a dire Ideas R in grande 11.23 ok una volta che io sono andato qua dentro qua di nuovo ci sono motori di trattori ci sono motori questa è e della 1000 la rgv e questo è un tuo tempi questo è l'NSR cacchia rola o mi sbaglio no no questo questo bel motore comunque vabbè prima di andare sul sicuro di cosa fare cambiare via di seguito no io sapevo che queste due foto per esempio eh questi questi sono dei quelli due prime erano quattro tempi li vado a buttare qua dentro e questa però di qua me la stacco me la taglio e la vado a mettere nei due tempi va qua ideas r r la vado a mettere qua ok quello è il motore della 500 e niente io adesso qua mi faccio una marcatura e mi faccio una notizia perché quando faccio a fine mese il backup mi deve assicurare che la va a che quella cartella è nel backup adesso vediamo se inventor è venuto dovrebbe venire oppure mi dovrebbe chiedere qualche qualche cosa potreste che quel pezzo ha alcuni problemi quello che mi deve aprire e adesso per farvi capire un pochettino come lavoro io con con i motori per esempio invece questi sono tutte cose che sono per gli accessori dei motori vedi queste sono le parti per i motori scritte in inglese io in inglese lo capisco però non lo parlo bene e va bene però per fortuna sul tedesco bene su l'italiano abbastanza bene e e niente questo dice le parti per motori di moto parts of bike engine e abbiamo la testata il blocco il cilindro l'albero a cam il carburatore bielle la biella è l'albero con la biella la batteria le valvole le candele abbiamo quello che cambia per le marce la marmita e il filtro d'aria però vedete anche questo non andrebbe qua come questi tre uno due e tre che facciamo la foto un pochettino leggermente più grande non va in questa cartella va nella cartella dei accessori per motori cioè questa che abbiamo visto prima e anche questa parti dei motori e andiamo avanti con questa con questo tipo di di miglioria delle cartelle allora noi siamo qua sempre nella cartella automotive e andiamo adesso sempre nei motori ok vedete automotive la cartella principale è stata cambiata perché qua in questa cartella qualcosa si è cambiata e io lo so benissimamente che si è cambiato nei motori perché faccio anche lo screenshot per fine mese come mi sto ripetendo più volte mi ripeto perché conosco tantissime persone che dimenticano e adesso io vado però in un'altra sottocartella dove parliamo di accessori di moto e anche qui ci sarà una idea R questa io vado a metterci 11 qua 11 e nel vediamo se nella foto già c'è stato fatto un 11 perché qualcosa qua è stata fatta vedi qua il pdf 11 e via di seguito però adesso a me mi interessa anche l'idea R che mi faccio un screenshot per assicurarmi che il backup mi funziona no è solo una cosa di 100% controllo e adesso vado in questa cartella idea R ci sono tantissimi perché i motori vedete a me mi piacciono tantissimo e e qua abbiamo lubrificazioni abbiamo benzina assemblaggio aprilia po queste sono presentazioni 1 2 3 4 5 no dove io vado a mettere presentazioni io lo so che sono presentazioni perché l'ho fatto io presentazioni oppure me le hanno passate qualcun altro ho tantissimi amici anche tramite il gruppo dei progettisti il gruppo sarebbe andiamo a farci pubblicità al gruppo se lo vado a trovare da qualche parte ecco a breve arriva il gruppo ok questo è il gruppo ragazzi questo è il magnifico gruppo bellissimo 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 è il gruppo progettisti disegnatori meccanici industriali costruttori detection cycling itach italia germania austria svizzera siamo 7751 membri gruppo cresce a dismisura e in questo gruppo siamo live ok questa registrazione che sto caricando su youtube che caricherò su youtube sarò è adesso live in gruppo dei progettisti e niente adesso io però queste parti qua vedete li vado a marcare uno due e l'altra è più li vado a buttare da dentro di qua spariscono faccio con drag and drop e vado a dentro come pure questa perché queste sono parti dei motori non sono motori no e così via qua avevamo prima quello che spiegava il la lubrificazione e lubrificazione andrebbe qua dentro stessa cosa ho visto un paio di foto di lubrificazione prima dato che ci sono faccio eccolo questi questi qua questi tre per dire questi questi quattro questi quattro è l'argomento lubrificazione e va qua dentro allora questo è a pillo assemblaggio benzina lubrificazione questo è RSA 125 sono tantissime cose del motore della 125 RSA e qua per esempio mi fa vedere il manuale smontaggio degli ingranaggi conici per far vedere tutti i pezzi i basamenti i cuscinetti cioè quello che faccio io è veramente tantissimo mi piacciono tantissimo queste cose e andiamo a chiudere qua vedi e queste cose qua mi passano tanti amici queste cose perché sanno che a me piace veramente tantissimo questo è simile a ecco sono tutti gli attrezzatori per misurare le cose e via di seguito questo è un allenaggio conico condotto con scato rinforzato e niente per farvi vedere qualcosina invece dove c'è scritto presentazioni c'è uno due tre e via di seguito sono quelle presentazioni che io poi quando andrò con calma siccome di sicuro l'ho già postato nel gruppo devo darci il nome giusto e poi lo sottofaccio lo metto dove dovrebbe andare questo è il carburatore per esempio perlomeno questo era il carburatore vediamo un pochettino ecco il polini wow e niente questo è il sistema aspirazioni e via di seguito però prima di darci un nome più più interessante andiamo a vedere adesso dopo cento anni è arrivato Inventor con con il suo mitico motore questo motore ha impiegato così tanto perché sono dove sono i problemi ci sono questi pezzi qua che sono anche i traslotti adesso va bene io me lo posiziono così vado a dirlo a Inventor tu adesso che io ti salvo per cortesia mettimelo così lo salverò con questa versione 2024 e adesso io mi faccio una foto di questo motore e la vado a salvare dove sono i motori perché lui adesso nel salvataggio del screenshot si trova dove sono i backup però adesso io vado ai motori i motori dove si trovano facilmente vado nella mia cartella costruzione designer automotive faccio un pochettino più piccolo lascio un po' grande così voi dalla casa riuscite a vedere e qua sono tutti il tema automotive nell'automotive noi abbiamo motore nei motori e qua come abbiamo già visto prima abbiamo motori elettrici e anche qua devo dire qua dentro ci troviamo noi io vado a mettere qua metto la data 11.23 di più non faccio fatto questo chiudo questo questo pezzo di invento non mi serve faccio il invento in piccolo e adesso ritorniamo dove eravamo prima perché con il tema motore qua non voglio andare a finire al 100% tutte queste correzioni perché impiegherebbero tantissime ore di cui non ho neanche il tempo e non è li faccio quando proprio ho voglia e via di seguito però per esempio una cosa ve la faccio vedere ancora che siamo qua dentro questa è una valvola una ventilo questa anche io queste cose me le conservo anche per imparare alcune cose in tedesco scusa in inglese e a me piace la passione a volte gli dico anche a un studente disegni questa valvola e lui me la fanno anche per far vedere i comandi dei variati programmi CAD e niente cosa faccio adesso io con questo comando dato che me ne sto uscendo di qua e vado nella cartella dei motori nel frattempo che vado indietro aggiusto questa valvola cosa faccio taglio e vado indietro qua però ci dovrebbe essere valvole da qualche parte questa è la valvola ammettica valvola rave qua abbiamo in spritzanlage i iniettori c'è uno c'è uno sbaglio ortografico e io lo vado a correggere ok qua c'è ci vuole una E i iniettori e automaticamente metto una 11 fatto non vado a fare screenshot perché l'ho già fatto lo screenshot di questa cartella lo so qua abbiamo elettronica abbiamo il iniettore qua sono l'iniettore cosa che è questa mi devo decidere se la butto là dentro qua abbiamo la pedala che poi si chiama pedivella vedete anche io qualcosa devo migliorare con l'italiano perché faccio pure tantissimo non è che pedivella posso togliere pure messa in moto perché la pedivella si sa e automaticamente vado a mettere 11 23 perché ho cambiato qualcosa adesso però io sto sempre da cercare la mitica valvola e vado e la metto qua ecco qua è la valvola idea r questa è una rappresentazione e la butto con un nome 1 perché so che questa rappresentazione ha che fare e metto anche r che sarebbe rendering allora questa non ha che fare con la rappresentazione e la vado a buttare qua dentro tutto questo fino a qua ha che fare con la rappresentazione e la vado a buttare dove giusto che sia nella rappresentazione qua queste qua invece li vado a buttare r casualità ok così e adesso nel mio mouse c'era che mi avevo usato quella valvola r e questa va qua ed è così io lascio la valvola rave così per chi mi ricorda questo per me era il turbo del 125 motore rotax 122 123 rave e lascio così è solo per ricordo questa che la lascio così era molto più bella se magari c'era questa che era più conoscibile diciamo no oppure quella di inventor per esempio se io vado indietro adesso schiaccio su quella che avevamo messo poche secondi fa questa qua si aprirà inventor e di questa si capisce subito che è una valvola una valvola e magari se la vai a salvare così si capisce subito di cosa parliamo no? però ha il vantaggio che ha il vantaggio che si capisce subito che è la valvola però a me mi piace ricordarmi la valvola rave ognuno fa come vuole ok va bene e e niente adesso però voglio ritornare ai motori elettrici motori elettrici dove eravamo prima allora abbiamo detto che i motori elettrici questi qua e abbiamo appena salvato questa foto e qua avevamo il pezzo in inventor quello che avevamo aperto prima se io vado a schiacciare su adesso si apre subito perché inventor sa i percorsi e sa come tutto e prima ha implicato più minuti adesso va velocissimo adesso io questo lo vado a buttare qua dentro perché non mi serve là anche questa old versions la cartella di un backup che fa inventor anche se da me è molto ridotta e la file in automatico non mi serviva la e io qua metterò una cartella questa rendering che vado a capire sempre subito di cosa parlo questo lascio così e via di seguito e qua nei motori sono tantissimi i motori elettrici sono tantissimi sono veramente tantissimi anche con i frequenzo murite che ho tanta roba ho tanta tanta roba e però non vado adesso a parlare di motori elettrici in continuazione andiamo un po' indietro andiamo un po' indietro e e questa era la cartella automotive la cartella automotive è una cartella che io faccio tantissimo e quella cartella che io vado a parlare del tre ruote di rimorchi auto bus cingolino documentazioni go card ideas come avete visto prima poi invento qua in vuoto perché sono nelle svariate cartelle camion aeronautica avevamo prima nel gruppo una persona che era veramente bravissima di aeronautica e ha preso alcune cose è una cosa che mi interessa però non ci posso non ci do la priorità uno motori le moto tanta roba le moto le moto sono bellissime e poi c'è il pdf che è sempre a che fare in questa categoria se io vado ad aprire qua sono i cataloghi che per accessori macchine e questo adesso per esempio è un catalogo un catalogo di un'azienda dove vado a trovare tutti gli accessori per per le macchine via di seguito cosa che io questo posso mettere tranquillamente nella sotto cartella delle auto e questo la vado a mettere con una data 11 vado a vedere se qua già c'è una pdf in quelle delle auto adesso mi trovo in quelle delle auto schiaccio la lettere p e c'è pdf quindi non ne devo creare un'altra io cosa faccio vado qua e vado a buttare da dentro da qua da dentro questa pdf a 11 23 non devo cambiare niente e questa però riceverà un 11 23 e io non mi devo fare il screenshot perché gli ultimi tempi ho fatto tantissimo in questa cartella come abbiamo visto i primi motori e non mi devo ricordare che quando fa il backup anche qua devo vedere se va bene io nel motore appena adesso ho visto una cartella che era fuori luogo cioè non fuori luogo dovrebbe andare è un'idea di una macchina che va con pannelli solari motore elettrico è solo una idea e però questa va in solidworks ok e però qua non è giusto perché avere questa cartella qua non va bene se io ho una sto cartella magari idea a pannelli solari quello e quell'altro andrebbe là dentro ma però se non ce l'ho cosa faccio la trascino qua dentro no la trascino qua dentro e qua dentro io vado da solidworks rinomino e gli dico 1123 anche qua non mi devo fare il screenshot perché di sicuro già qua c'è una cartella che è stata toccata con l'1123 perché io vedo qua c'è già 1123 qua c'è già 1123 nella fiat e già mi basta non devo di nuovo rifarmi la notifica che questo backup dovrebbe essere rifatto e niente poi via di seguito eravamo qua più o meno a spiegare qua abbiamo il quad qua abbiamo rc le macchine radio comandate abbiamo le navi abbiamo i sprinter e poi qua abbiamo soldworks e i treni i treni è un capitolo grandissimo per me a me piacciono veramente tantissimi i treni e per dire la verità io non ho mai parlato quando c'è il gruppo il gruppo adesso ha fatto a breve un anno e non ho mai parlato di treni arriverà il tempo che parlerò di treni perché la ho veramente tantissimo e mi piacciono mi piacciono tantissimo e anche nei treni voi vedete io l'ultima volta che ci ho messo mani 11-19 qua 12-22 ma ho solo rimpostato la cartella sicuramente poi dal 2019 voi vedete che più o meno non ho fatto niente qua ho messo 10-23 perché ho fatto solo la struttura ma come lavoro dei treni e tanto sono anni che non faccio più niente però faccio vedere qualcosa questo e questo sono dei lavori dei lavori veramente 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 bellissimi io cosa faccio siccome questo adesso non mi piace voi vedete io adesso sto parlando e sto lavorando quando io non parlo sono molto più veloce perché invece di parlare socialmente cosa devo fare più avanti e non posso correre più di quando parlo perché altrimenti chi mi segue non riesce a seguirmi e non ha senso e niente adesso io apro o l'SD40 o l'UC50C andiamo a prendere 50C dai vediamo poi anche qua vado a fare una miglioria adesso perché io tempo fa scrivevo bautile e parte no invece invece l'ultimo tempo io faccio solo B che significa significa bautile l'abbreviazione di parte e ci metto anche gli assieme ok questo mi interessa so che io ho questi due motori queste due locomotive li vado ad aggiustare voi vedete qui B sono solo parti solo parti per fare quel e questi sono lavori fatti nel 2014 e questi sono gli assiemi allora io cosa faccio non vado a tagliare e e copia e incolla dico tu sei un B grande possibilmente e adesso quella di bautile gli dico pure tu che sei un B e si va a singolarizzare tutto là dentro mi dice vedi che c'è la doppia e adesso quando vado qua dentro troverò tutti i pezzi qua dentro ok e qua però io li vado a mettere anche la data perché questi sono lavori belli che mi piacciono e pian piano voi vedete quando io vado a rilassarmi con il CAD faccio sempre questi tipi di lavori così e pian piano avrò non pian piano io ho già un'immensa data bank no e su qualsiasi tema ho veramente tantissimo adesso appena ho fatto sto la miglioria qua vado con l'inventor e apriamo e apriamo qua c'è la old version io la vado a buttare la old version perché non mi serve adesso cosa faccio mi copio il percorso oppure posso andare anche con l'inventor perché io so dove ho i pezzi salvati noi eravamo nella cartella automotive eravamo nella cartella dei treni e eravamo in inventor però adesso qua non siamo più 11-19 ma siamo andiamo siccome abbiamo modificato qualcosa qua andiamo a metterci 11-23 ok qua andiamo a metterci 11-23 tanto per sapere che abbiamo fatto il backup e tanto per sapere aspetta qua mettiamoci pure 11-23 perché anche se io ho fatto solo quelle due modifiche che ho cambiato tante ho migliorate delle cose e però è molto importante che mi faccio sta questo backup lo vado adesso lo mettiamo qua qua anche questo era il backup backup 10-23 adesso adesso sarà il backup dell'11-23 ok di regola ogni mese faccio il backup saltuariamente lo faccio ogni due volte in un mese saltuariamente non lo faccio ok adesso però ritorniamo a dire che faccio il backup una volta al mese a fine mese vado a fare il backup e ho lavorato di un paio d'ore e va bene così anche questo è un bel locomotivo io ho tre locomotivo locomotive scusatemi anche qua vado a metterci questo 11-23 e ora però io per sapere che 11.23 io cosa faccio per sapere che queste belle locomotive sono quelli belli e quelli belli 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 gli do 1, 2, 3 perché so che la prossima volta quando andrò a parlare di treni so che questi tre sono eccezionali invece questi sono quelli antichi però quelli antichi sono anche belli io vado a rinominare e adesso appena vado una volta indietro e una volta dentro andiamo a vedere che 1, 2, 3 si troveranno così e questo qua pure è già fatto così adesso vado io a prendere uno di questi qua ok ah questo è solo il coso il oh non so neanche come si chiama in italiano ma dove sono collegate tutte le ruote come si chiama invece questo è tutto il treno completo ok però anche là c'è il carro non si può chiamare perché il carro è dal trattore ok ecco andiamo a prendere questo adesso in vento va a trovarmi tutte le migliaia di pari le migliaia di no ma centinaia sì e e mi fa vedere questo treno così eccolo è lui a me a me i treni mi piacciono tantissimi questo qua quello che è stato fatto un grande lavoro è stato fatto il lavoro proprio sul non so come si chiama in italiano questo è il firework è il gruppo dove c'è tutto le rotaie i freni le sospensioni e tutto quello che tiene il treno perché il treno va avvitato qua sopra e questo è quello che fa camminare sulla ferrovia sui binari e andiamo a vedere un pochettino un spaccato di questo andiamo a vedere un pochettino un spaccato di questo tanto per vedere com'è com'è eccolo questo qua mi è stato vediamo una funzione nuova adesso è in Invento 2024 se vado a schiacciare ruota questa funzione vedete qua noi possiamo andare adesso a girarla nei vari assi così questa è nuova nel 2024 se vado a schiacciare qua vado così carina carina come funziona veramente fatta bene bella 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 e poi diciamo pure qua se vado a girare così a tagliare in quel modo vabbè adesso mi interessa tantissimo sapere come si chiama questo in italiano questo firework qualcuno gentilmente mi scrive sempre mi aiuta ok ok adesso usciamo dai treni facciamo vedere di nuovo un pochettino questa bellissima locomotiva andiamo a salvarla e così prossimamente si aprirà più più rapidamente e niente adesso 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 eravamo sempre qua voi avete visto come io come mi muovo con i salvataggi e i backup ok adesso eravamo però anche alla fine del automotive non apriamo il capitolo moto ma vorrei aprire il capitolo motori cioè eravamo già prima anche se noi andiamo nelle moto quello che io ultimamente ho ricevuto tantissime cose importanti qualcuno mi ha detto parla di questo parla di quello e come voi ben notate il gruppo gli ultimi due settimane si è sposto tantissimo anche sulle moto le moto che a me piacciono tantissime e le moto che io pure diciamo suddivisco mi piace parlare tantissimo delle moto stradale quelle sportive allora qua abbiamo ho un'idea che la sto valutando e adesso ne parlerò con voi qualcuno gentilmente magari si mette in gioco e l'idea che voi vedete qua ho tre ruote ho accessori delle moto che andiamo solo a spriciolare qui sono tutti accessori delle moto sono tanti ok sono tanti faccio vedere solo un bel pezzo che vado adesso dalla panicale ad aprire con SOLIDWORKS perché ho SOLIDWORKS 2023 aperto e questo è un pezzo che mi sono scervellato alcuni anni fa rifallo rifallo ma tanto per capire il programma bello se per fare le carene con i programmi CAD però io a lavoro non faccio il progettista di motociclette è una cosa che mi affascina tantissima ho avuto un paio di volte l'occasione ma ho rifiutato ho preferito stare vicino alla famiglia però è un lavoro che mi affascina tantissimo adesso un sasso di caffè ragazzi ah bello un sorso di caffè un bel espresso e ok adesso mi si è aperto questa funzione per il momento non mi servirebbe potrei anche toglierla non capisco adesso perché console box lo space mouse non mi funziona però va bene e niente questa è la mascherina della panigale ragazzi bella 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 tutta in fibra di carbonio bella non la salvo e niente eravamo nei accessori per motociclette andiamo un po' indietro non voglio continuare con le motociclette interaccessori no perché non mi piace è perché volevo fare vedere la struttura che io vorrei cambiare vorrei migliorare e lo farò nel periodo di dicembre cioè prossimo mese allora io qua devo vedere piaggio vediamo qua piaggio cosa abbiamo 2020 l'ultima volta che ci ho messo mani abbiamo una vespetta vediamo cosa abbiamo in solidworks qua abbiamo il nome della vespa vediamo se apro questo se mi si apre con solidworks 2023 perfetto perfetto e questo è solo il logo adesso mi funziona anche il space mouse ma niente questo non è niente speciale ragazzi questo è il nome della vespa che per noi è un'icona per noi italiani e devo togliere questo comando qua da solidworks ho tantissimi comandi che dovrei dovrei togliere qua sopra e e niente vado a chiuderli qua come voi vedete quello che l'idea che io voglio fare adesso è qua siamo nel capitolo nell'argomento motociclette io delle motociclette come pure questa cosa è con le auto stesse cose con i trattori stesse cose con le macchine di movimento terra e anche con le case io ho due dischi rigidi portatili uno solo per foto e uno solo per tutto quello che faccio al computer diciamo la mia idea è di portare anche qua in costruzione e designer anche le foto per automotive trattori e macchine agricole che si trovano nell'altro disco adesso attualmente attualmente sul capitolo moto per esempio andiamo sul capitolo moto vedi qua abbiamo aprilia 9 2023 o messo a mani c'ho autocad la capo nord che è in inventor e gli do il nome 11 11 punto 23 e vado a metterci pure inventor che qua inventor era assente inventor mettiamoci pure 11 punto 23 e come voi avete già capito questa va qua dentro questo va indietro e qua vado a metterci 11 23 no mi faccio lo screenshot per il backup perché qua ci sarà già qualcosa come pure qua avete 11 23 e già 11 23 già mi basta non devo oppure qua custom 11 23 non devo andare a toccare niente e e invece questa è una bella rs che ho fatto alcuni anni fa con autocad però voglio aprire adesso se vado a schiacciare qua lui mi apre un autocad non so neanche io quale però io voglio autocad meccanica 2024 autocad mi apre mi apre con il mac così via autocad eccolo questo voglio io mi apre adesso l'autocad mechanical 2024 è un programma che io non l'ho usato quasi per niente per dire la verità autocad dal 2000 dall'inizio 2018 non l'ho quasi più usato veramente saltuarialmente qualche ora nell'intero dell'anno ma ho fatto solo qualche piccola modifica anche in azienda per dire la verità settimana scorsa mi è servito ma un lavoro di una mezz'oretta ma una mezz'oretta in due anni in azienda invece a me in privato per il gruppo abbiamo fatto qualche alcuni mesi fa qualcosa con il mio collaboratore abbiamo andato sui sviluppi di tubista e quello e quell'altro e avevamo usato autocad mechanical non ricordo quale credo il 2023 no non ricordo quale di sicuro non era il 2024 adesso io con questo autocad 2024 vado ad aprire quella Aprilia RS questa qua andiamo a aprire entrambi tanto per farvi vedere la mia passione che ho per che ho per le motociclette vediamo un pochettino cosa avviene già all'epoca mi piaceva il il blu il blu mi piace come piace i più colori questa è la RS 125 ragazzi eh e questa è bella è bella disegnare queste con autocad ragazzi è bella dai mi piace ma questo è un giochetto eh però tanto per farvi vedere che anche i giochetti sono belli chiudiamo autocad no l'abbiamo solo fatto in piccolo e qua però da autocad non vado a mettere 1123 perché io ho solo guardato non ho visto niente non ho modificato niente scusate allora andiamo di nuovo al discorso di prima quello che io vorrei fare però ancora non sono sicuro se dovrei fare questa scelta adesso siamo qua nella cartella dove c'è solo CAD abbiamo il PDF e non abbiamo le foto se le foto verranno qua e se verranno qua andranno su ogni singola cartella e la devo valutare questo questo processo eh qua abbiamo il PDF che per il momento ancora è sotto Aprilia Cagiva Rally Rally e Aprilia e vedi questo è uso e manutenzione in tedesco Rally 50 la prima di Rally ne ha fatto due quello questo qua è quello che è mio è lo scooter e poi c'è il 125 e anche di scooter ne ha fatto due uno raffreddato ad aria uno raffreddato ad acqua e e via di seguito però questo vediamo se qua c'è anche già Rally non c'è siccome vedete continuatamente io vado a migliorare le cartelle scooter con due e lo vado a buttare nella cartella lo trascino da Aprilia qua abbiamo una pagina la piaggio o file della piaggio che devo sistemare e YAMA andiamo da Aprilia e questi sono 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 tantissimi vedi questa per le SR devo fare pulizia qua eh le fa veramente c'è un lavoro ragazzi tantissimo da fare questo SR va qua dentro invece questo del motore che poi ho fatto foto per il gruppo anche tutta via perché ho il pdf non mi serve più tanto vero però che io ho fatto sia le foto e poi ci ho buttato giù il pdf dentro ok questo è il rotax che sarebbe il motore che va montato sotto l'apriglia come pure il minarelli è il motore che va montato sotto l'apriglia e questo e questo invece è RS minarelli devo fare un po' di attenzione però se io butto questo è un RS 50 non è tanto sbagliato eh questo è RS 125 e questa è la Pegaso AF1 RS di nuovo mettiamolo qua dentro 125 e questo mettiamo qua quello che manca manca la F1 AF1 e la F1 mettiamolo qua dentro è il Pegaso ecco questo è il pdf di questo no di queste foto adesso che io l'ho trovato queste foto le posso pure buttare perché queste sono le foto che io ho già caricato nel gruppo questo file intanto mi hanno chiesto in privato e ragazzi avete le foto qua guardate le foto perché io caricare questo nel gruppo primo che va a portare proprio vabbè è un lavoro che ci vuole del tempo perché prima cosa se lo porto nel gruppo ci metto la password non vado a mettere un file del genere nel gruppo per tutti io adesso queste foto le vado a cancellare è proprio eliminare e vado a fare una cartella rotax che poi questo andrebbe nella cartella dei motori ok due tempi ok rotax aprilia ecco questo tanto per farvi vedere non lo faccio adesso perché devo fare tantissimi ho tantissimi file ancora le rotax e lo farò più dopo e questo il rotax va qua dentro invece stessa cosa minarelli era da qualche parte l'avevo visto prima metto minarelli aprilia che poi minarelli e poi minarelli aprilia e adesso cosa andrò a fare vado a mettere questo qua dentro ok date che abbiamo appreso questo capitolo continuiamo con questo capitolo non è un problema è bello questo capitolo a me piace tantissimo allora uno e yamaha non hanno niente a che vedere qua ok bella 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 la mia moto la yamaha r1 e faccio vedere come con semplicità io vado a migliorare queste cartelle con track and drop vado a destra ho lo schermo suddiviso di due cartelle cioè io lavoro ho tre schermi al mio computer però siccome sto registrando sono costretto a lavorare con uno è più faticoso per me perché sono abituato a lavorare con tre schermi però mi devo adattare all'esigenza e l'esigenza se vuoi registrare vuoi fare questo sono costretto io a lavorare con uno schermo perché se vado a registrare tutto i tre schermi primo la qualità la qualità è pessima della registrazione e poi il file diventa così grandissimo che per caricarlo su youtube poi ci vogliono giornate allora stavo spiegando come andare a trascinare con track and drop questa cartella yamaha che si trova nelle cartelle aprilia tanto vero che io ho un'altra cartella dopo dopo ho ricevuto più pdf le ultime settimane che dato che adesso continuiamo e finiamo e terminiamo il lavoro dei motori faccio vedere qualcosina allora vado a vedere su import e vado a vedere su pdf ok l'ho già spostato ecco perché il motoro yamaha si trova là dentro perfetto perfetto adesso a destra ci troviamo nelle moto ok moto qua abbiamo pdf da qualche parte ecco qua e abbiamo aprilia yamaha e via di seguito e anche qua abbiamo yamaha ok io posso fare con track and drop e se vado a fare con track and drop il nome yamaha è lo stesso mi dice guarda che già c'è lo vuoi sovrascrivere e mi dice pure che c'è c'è un file che è doppio io dico sovrascrivermelo non ne voglio file doppio io non ne voglio file doppio doppi adesso appena ha fatto questo passaggio lui mi ha fatto questo lavoretto qua allora io avevo già detto prima che su questa cartella delle moto farò una struttura immensa questa che la vedete il prossimo mese andrò porterò quale moto se una cartella che vi farò vedere a breve che voi a chi ha interesse è veramente interessato su questo però adesso per il momento siamo qua anche dal pegaso farò una cartella a parte mettiamo pegaso io ho veramente tantissimo tantissimi file anche per macchine agricole via di seguito pegaso buttiamolo qua e adesso abbiamo aprilie a modelle i modelli dell'apriglia andiamo a vederci un pochettino questo file questi sono i motori dei scooter questo era raffreddato ad aria e questo è raffreddato a liquido andiamo a vedere anche la la era il filtro sopra a destra il carburatore questo è l'impianto raffreddato a liquido minarelli su licenza yamaha morini e piaggio sull'nrc e minarelli e sull'sr rally e tanti altri questi sono più o meno l'sr 2003 l'amico e via di seguito anche questo potrebbe andare sui motori lo butterò io nei motori minarelli aprilia tanto per fare un po' di pulizia adesso però come voi avete visto prima io ho le cartelle dei motori 125 quelle quell'altra per fare un lavoro pulito prima devo mettermi in ordine queste cartelline qua prima devo mettere qua in ordine perché questi l'ho dovuto fare fare le foto per caricare nel gruppo e tanti ancora non li ho neanche caricati e poi dopo che ho fatto un po' di pulizia vado a dividere con motore rotax e quello e quell'altro e andranno nella cartella dei dei motori a due tempi che li troveremo qua ecco siamo motori due tempi pdf p e dpdf abbiamo già aprilia e via di seguito no queste sono foto che ancora io non ho nel gruppo sono tutte foto che andrebbero anche rigirate e sono foto che io da qualche foto del genere andrò a fare anche qualche post questo è il motore 122 no e e faccio vedere come io con un click tutto alcuni di voi non lo sanno in tanti lo sanno ma alcuni non le sanno io parlo per quei pochi che non lo sanno o per cui io ho marcato tutte quelle foto e girmi a destra stessa cosa se io adesso di questo voglio fare un pdf sono tutti quanti girati anche se il pdf lo posso fare diversamente adesso il mio windows in automatico sta lavorando sotto quello che io ho detto per girarmi tutte queste foto e appena finito tutte le foto sono girate a 90 gradi a destra ok allora quando io vado a caricare nel gruppo io vado a mettere quel QR code del gruppo e sono protetti via di seguito questi sono su in tedesco ed è tutto il motore completo come andrà fatto il smontaggio montaggio sostituzione dei parti qua per esempio siamo sulla pompa dell'acqua e qua sono le tolleranze del pistone della fase del cucinetto scusatemi e questo è in tedesco e in inglese ok e tutti i singoli parti vabbè bello 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 mi piace tantissimo allora cosa faccio io siccome questo ce l'ho sia in pdf che in pdf in rendering non è che vado e e cancello questo perché ancora non c'è anche il QR code se c'era il QR code lo potete anche già buttare perché è di sicuro c'era il gruppo cosa faccio vado qua e faccio R R possibilmente grande vado qua e marco tutto spero che si dici così in italiano con shift toglio toglio questo drag and drop butto là dentro bam e fatto tutto a volte sono io più veloce del computer anche se un computer super velocissimo e questo pdf va qua dentro ok stessa cosa farò qua dentro questi invece sono già girati io cosa vado a fare qua però ci troviamo sul sul RS 125 fatto estratto dal pdf perché voglio caricare un semplice documento su queste ma ma libretto uso e manutenzione e in inglese questo tutto usiamo attenzione della 125 a me mi piace tantissimo vedi qua regolazione della della frizione qua il livello del del olio per i freni spiega allora questo è un anendezio speciale comunque è un libretto standard che quando compri la motocicletta te lo danno io ho scritto qua R vado a marcare tutto vado a dire tu non sei marcata e trascino tutto là dentro adesso una volta che sono trascinati là dentro io cosa faccio vado e gli butti e lo butto scusatemi questo qua dentro questa cartella però lascio così perché so che qua c'ho la foto e pdf pdf vado sull'altra stessa storia perché so che di questa c'ho anche le foto ok è solo per me una piccola osservazione diciamo io so quello che ho fatto adesso qua però è il lavoro da aggiustare allora qua rotax aprilia io prima che devo siccome ancora mi trovo nella cartella delle moto siccome mi trovo nei pdf non è che tutto quello che è aprilia è motore dell'aprilia per esempio qua parla dell'aprilia devo andare con calma a vedere questo invece so che è scritto rotax però prima di andare a spostare vado ecco il mitico rotax 122 vado a spostarlo là dove sono i motori e faccio così adesso ho queste cartelle che mi avevo già preparato prima la trascino là dentro voi vedete io non faccio copie io sposto solo la struttura e questo li butto là dentro perché sono tutti i motori rotax per aprilia stessa cosa però minarelli per aprilia ok andiamo a vedere cosa abbiamo qua di minarelli per aprilia ah questo è quello che avevamo visto prima e questo è il workshop manuale e credo che sarà in è in inglese è il manuale del del motore che bello vedi qua sono le tolleranze vedi io l'inglese lo capisco però a parlarlo faccio non pronuncio bene non pronuncio bene alcuni termini e lascio stare ecco perché avevo sempre detto chi se vogliamo fare qualche evento in inglese nel gruppo lo faremo però ci vuole qualcuno che parla in inglese io posso tranquillamente lavorare col card e fare vedere queste cose però ci vuole uno che parla bene anche le cose tecniche non è che se parla in inglese vuol dire sapere parlare di queste cose perché uno che sa l'inglese e non capisce la tecnica hai fatto un buco nell'acqua ok allora per esempio se prendo i miei figli che parlano bene l'inglese o mia moglie e faccio parlare di questo non risolvo niente ok allora abbiamo buttato anche il minarello là dentro cosa che io farò poi con con tempo cosa che non andrò a fare adesso vado a vedere poi queste questi cosa ho io qua per esempio se questo è solo dello scooter rally che è un handbook che sarebbe un uso e mantenzione rimarrà là ed è giusto che rimane qua da Aprilia non è il motore stessa cosa che però adesso andiamo a vedere RS125 e qua è è importante vedi qua abbiamo il manuale qua abbiamo Aprilia RS125 usa il manuale qua RS125 93 02 questo credo che è un doppione 18.7 18.7 questo è un doppione ecco vedi queste sono solo la cosa che cambia è un doppione la cosa che cambia è che qua RS è in piccolo e qua RS è grande ecco perché il computer non ha detto che era un doppione ma lo è allora vediamo questo è in inglese vediamo se l'ha la differenza e questo è pure in inglese e questo lo vado a buttare perché è doppio invece questo qua vediamo qua che cos'è questo usa e manutenzione in inglese e via di seguito ok va bene fatto questo ho fatto vedere come più o meno sposto io i file e mi miglioro sempre questo vedi qua spiega minarelli e dato che ancora ho la cartella di motori minarelli aperta vado ok vado ad spostare anche questo motore che è la 26 rs per il motore minarelli 95 96 97 qua siamo sul pacco lamentare l'ammellare e anche sul pompa dell'olio ok e questo però questa è la biella il cilindro con la testata e via di seguito a me piacciono tantissime queste cose mi piacciono veramente tantissimo e anche è bello perché se vuoi puoi imparare l'italiano e l'inglese no qua a sinistra è italiano a destra è in inglese lo faccio vedere più grande qualche cosina di qua nel gruppo lo caricherò quando trempo e ho spostato questo questo pdf da aprilia nella cartella cioè prima era automotivo motori adesso è automotivo motori due tempi pdf pdf minarelli aprilia ok perché sappiamo che i motori minarelli aprilia erano per 50 i motori 50 più o meno sia ciclomotori scooter invece questo è bene che rimane qua perché questo è della rs 50 96 98 ciclomotore e spiega più o meno tutta la moto questo per i pezzi di ricambi ok rs 250 vediamo cosa abbiamo questo montava il motore della suzuki dell'rgv gamma questo è il modello 98 2003 bella moto pure eh questi sono gli attacchi delle carene parafango e via di seguito radiatore eh va bene ok questi sono i pezzi di ricambio li lascio qua ok poi questi sono quelli che voglio fare dopo vedi queste r mettiamo per il pegaso facciamo così ando per fare un po' di pulizia buttiamo là dentro e anche il pegaso se io adesso vado a mettere r siccome un'altra r non c'è e poi la trascino nel pegaso oppure faccio gpc pdf come abbiamo fatto prima la vado a buttare il pegaso dove si trova ho fatto prima la cartella del pegaso no? eccola dove è taglio vado indietro il mio computer è tutto in tedesco io parlo in italiano però eh vado a cancellare e così via anche sull'SR perché è uno scooter che veramente mi è piaciuto tantissimo e mi è veramente piaciuto tantissimo e oh qua abbiamo la F1 50 che bella questa è la mia prima moto era di mio fratello ma è come fosse era la mia quant'era bella la prima F1 50 futura bella 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 era una moto che volava volava quella moto eh e tanto che bella che io questa foto la voglio come come l'ho messa addirittura su un computer come come sfondo e qua la metto pure qua come sfondo come sfondo per l'apriglia eh e e di questo è questa è quel pdf la che avete visto poi prima e come voi vedete se se volete io lavoro sempre così più o meno no voi immaginate da quando faccio questo lavoro e questa faccio un'eccezione perché quella futura là voglio che si vede e la trascino là dentro e come voi già avete visto prima mettiamo qua pdf così so che è anche questo e questo invece apri la replica del 1987 qua è tutta la storia dell'apriglia bello è tutto in inglese bello 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 designer bello 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 l'apriglia bella vediamo un po' quale cad utilizza l'apriglia credo che il catia vediamo un po' mi interessa sto coso ah hanno il catia ok beati loro però questo è catalogo mettiamo catalogo e di questo il pdf adesso io non lo so dove l'ho messo qua abbiamo rs50 minarelli mettiamoci ecco dove è il pdf di là questo lo buttiamo qua e questo va perché ho fatto fare in automatico i rendering che volevo postare l'altro giorno nel gruppo però poi il tempo a volte non è mai abbastanza e adesso di questo è la ok rs125 lo buttiamo qua dentro anche questo 125 lo buttiamo qua dentro e però questo è il workshop che sarebbe questo pdf allora ragazzi io sto facendo vedere più o meno come lavoro con il pdf pure e rendering no siccome qualche foto di qua la caricano nel gruppo e l'ho fatto fare in automaticamente dal pdf in foto quando ho tempo più in là o quando c'era l'occasione io caricarò qualcosa oppure nel gruppo oppure a me mi piace la passione e me li tengo queste sono tutte molto da me possedute e a me mi piace tantissimo adesso questo aprire modelle qua cos'è questo vediamo un pochettino qua perché voglio vederci qua ah questo è quello dei motori là vediamo un pochettino se abbiamo già fatto anche di qua credo che di là non l'abbiamo fatto ok e comunque qua nell'RS 125 ho tantissimo da fare allora qua abbiamo il pdf di questo e il pdf da questo vediamo se sono già ok andiamo ragazzi adesso il il lavoro per chi non può non interessa e sta diventando già una noia ma io nel frattempo che sto lavorando sto registrando e a tanti di voi lo so perché mi scrivono tantissimi in privato può servire a chi non serve Sorvela e abbiamo fatto qua quello che è veramente molto importante quello che faccio pure io adesso vado a mettere scolato anche il pdf oltre alle foto e in pdf ok questi sono veramente motori carini e dove c'è il manuale esploso e anche i cataloghi ci sono pezzi veramente belli veramente ok adesso dopo ho detto tutto questo ritorniamo indietro alle moto anche faccio un po' la yamaha o i nedi della yamaha questi poi li aggiungerò dopo della yamaha se no diventa veramente una noia sto queste e l'ho messa nel gruppo la krapovich per la per la moto bella bello bello e lo lascio qua perché devo fare delle cose e qua abbiamo però il manuale del motore il manuale d'officina in italiano della yamaha 2002 2003 abbiamo il manuale d'officina bello 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 questo mi hanno passato ieri questo ieri mi è arrivato ragazzi ieri veramente veramente l'ho visto proprio vediamo guardate la data vediamo un pochettino tutto quello che yamaha vedi venerdì 10 novembre alle 17 31 e ho tantissimi amici che mi vogliono bene ragazzi mi passano tante belle cose e e questo è il libretto di officina quello che i meccanici hanno quando devono aggiustare la moto e quando devono non è quei dei ricambi perché ci sono più cataloghi c'è qua dei ricambi e questo è quello bellissimo dell'officina qua abbiamo il diagramma di lubrificazione è un bel motore questo con quattro cilindri qua vi faccio vedere anche come si raffredda il diagramma di lubrificazione come è concepito poi i cavi vabbè andiamo veloce sull'elettronica poi i cavi come sono sono messi per farvi vedere comunque fatto bello mi piacciono queste disegne adesso andiamo in officina adesso andiamo in officina controllo del gas la candela come consigliata la distanza vedi distanza tra gli elettrodi da 0,8 da 8 decimi a 9 decimi hai un decimo di gioco da 0,8 0,9 olio motore consigliato un 1030 un 10w30 il filtro abbiamo di raffreddamento bello bello bel catalogo eh bello veramente ma è grande quante 470 pagine noi siamo alla 142 controllo relazione del piantone dello sterzo vabbè andiamo un po' veloce perché è bello è bello è bello questo me lo guarderò attentamente questo catalogo io ho avuto anche un R1 mi sono fatto anche male con la R1 la frizione della R1 la confezione questa è la leva la frizione con i suoi dischi smontati in esploso qua c'è tutto come intervenire come intervenire sul smontaggio della frizione della R1 bella 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 bel libro bel catalogo questo impianto elettrico babbo dai è lunghissimo è grande i carburatori i corpi al farfalla vediamo un pochettino qua sistema il corpo a farfalla iniezione elettronica come si chiama il corpo degli iniettori e vabbè oggi ci siamo vediamo la valvola batteria impianto elettrico i suoi cavetti quanti ce ne ha cavoli o immagina quella attuale le moto ormai sempre come tutte le cose non solo le moto tutte le cose l'elettronica è spietata ormai è spietata non ha più un fine elettronica e vabbè va bene ragazzi chiudiamo qua quello della della R1 abbiamo veramente tantissimo del modello service manual ah questo è il service quello e quello che abbiamo intorno azione quando compriamo la moto lingua inglese ok allora questo è quello che abbiamo noi tutti quando andiamo a comprare la moto oh non credo no 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 non credo perché già qua fa vedere il cuscinetto vediamo un pochettino oh bello questo oppure questo è come quello però del modello 2000 quale anni è questo l'ho preso modello 2007 è in inglese questo è l'impianto di raffreddamento i tubi che vanno al radiatore alla pompa e passano dai cilindri è bello ragazzi a me piacciono i motori piacciono tantissimo 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 vedete nel mio tempo libro sto a guardare i miei motori e raramente condivido perché perché fare questa del 2000 perché fare registrazioni ci vuole l'ambiente che è silenzioso devo chiudere il telefono che non suona non mi disturbano bisogna avere il tempo capito capita ecco perché bisogna avere tempo questo è quello che abbiamo noi quando compriamo che lingua è? spagnola o portughese funziona o spagnola o portughese comunque bella questa questa R1 2010 ok adesso l'ultima cosa e mi fermo con questo coso avete visto quando è materiale o lasciamo stare la cagiva lasciamo stare abbiamo la mito e via di seguito anche della Piaggio ho ricevuto tantissime cose e niente adesso però io mi sposto e vado sull'altro disco e vi faccio vedere cosa ho delle moto e poi ci fermiamo con questo qua mi trovo nella cartella dei rendering qua ho solo foto come pure avevo parlato delle macchine agricole che li portano nell'altro disco adesso ci fermiamo solo sulle moto oggi di macchine agricole non abbiamo parlato solo motori e anche questi vedete questi dei motori cosa faccio io io taglio di qua e li vado a portare qua devo tagliare non posso fare il drag and drop perché perché è un altro disco quello che avete visto prima e se io faccio il drag and drop mi fa una copia è cosa che io non voglio e adesso qua idea R no vado a mettere negli prima metto qua e poi gli accessori saranno mi è messo nella sottocartella e adesso di qua i motori sono alto via se io vado di nuovo qua dentro non c'è più niente ed è giusto che sia così perché poi da là li vado a aggiustare però adesso sempre la cartella moto qua abbiamo moto design che alcuni di questi sono anche nel gruppo alcuni di questi sono nel gruppo rendering questi qua sono belli 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 questi eh però sono tutti design che non è in realtà sono tanti idee belle 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 questo però parliamo di moto design quello che voglio farò vedere io moto ecco quello che voglio quello che farò io prossimamente nell'altra cartella dove siamo stati fino adesso delle moto qua qua i cad qua i cad è pdf qua rendering solo qualcuna da fatta dal cad qua voglio portare tutto questo e qua abbiamo sulle foto per esempio se noi andiamo a vedere nell'apriglia ci ho messo mano l'1123 oppure cagiva o ducati quando andiamo sull'apriglia ho di nuovo f1 catalogo la linea l'europa libri moto gp rally red rose riparazioni rs sr no già che io vado nell'af1 questa è la prima moto che ho avuto io che era di mio fratello era la mia la f1 no a f1 50 per esempio io questi questa è la f1 bella quant'era è bella o quant'era è bella sta moto la futura e se io sposterò questa qua dentro vedete prima che la vado a spostare devo capire se è questa è la 125 si vede che sono 125 e li putto là dentro però una volta che io vado là dentro poi c'è la futura la replica strumenti no vedi futura è questa poi se vado indietro c'è la 125 abbiamo questa della 125 c'è la futura 90 91 la racing che la racing sarebbe quella di cremini e di reggiani andiamo qua e questa è sempre quella di gramigni e tutte queste le vado a buttare nella rendering quando io ho tempo poi eh aggiustalo tutto replica 92 che sarebbe questa avete ho tanta passione per le moto tanta 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 e adesso questa era la F1 125 poi abbiamo la RS vedete abbiamo quella RS abbiamo la 50 125 250 andiamo nella 125 e e c'è quella di di Arada di Biagi la Chesterfield che sarebbe questa ah questa è anche bella come sfondo credo che adesso cambio da extrema a Chesterfield il mio sfondo e ecco questo è la RS 125 Chesterfield tanta 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 passione ragazzi tanta passione e poi il motore della RS qua smontato sul banco prendiamo questa qua che vediamo un po' che ingranaggio di tecnica e è bello è bello è bello è racing e e anche poi c'è Reggiani Sport Pro la Sport Pro modello 94 58 il carissimo Sitch la Sport Pro ragazzi che bella che bella che bella con il rally vicino 125 queste belle due moto questa è venuta dal gruppo della pagina due tempi due tempi una pagina che ammiro e seguo tantissimo questa è la RS Sport Pro Replica Reggiani la Gilera CX a me la Gilera non dico è bruttissima mi piace di più l'Aprilia bella 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 questa è quella di Valentino Rossi la RS di Valentino Rossi qua la catena se l'ha mangiato il lupo è senza catena e niente ragazzi dai bella tante moto andiamo a vedere questa bella Arrov l'Arrov era bella un bel sombo per la RS un bel sombo pieno e poi quando andavi in coppia che apriva la valvola bellissima la mitica valvola rave e niente e niente e niente poi c'è la 250 l'RSV la RX SR la 250 giustamente la troviamo sotto RS 250 poi c'è la racing che sarebbe questa e abbiamo quella di strada questa qua è quella di strada RS modello 94 replica viaggi questa replica Arada capirossi bella questo wow che bella questo questa replica capirossi bella 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 questa è quella di terziuda Arada che è il numero 31 quella di Rossi modello racing Rossi modello stradale l'astra azzurra l'astra azzurra di Rossi replica Rossi è bella bella va bene adesso ragazzi avete visto la passione per le moto e come le macchine righe il trattore tecnico è tantissima poi se andiamo sulla Honda oddio su Yamaha MotoGP sviluppo modellismo sulla Honda ecco la Honda c'è 93 125 dei 50 500 poi c'è MotoGP che sarebbe tutto questo la MotoGP tutto questo è da buttare nella MotoGP e quando andiamo sullo 500 quindi iniziamo di nuovo Duan Edilayvison Crivillier Biaggi Cadalora Barros Rossi Capirossi e Cato e poi qua c'è ancora qualcosa da aggiustare per esempio questi sono quelli di capirossi e giustamente pian piano che io quando ho del tempo aggiustarlo così come adesso vedete questo è capirossi è bene che vada capirossi tanto così vedete veramente come come lavoro io per far sì che un giorno i file sono tutti ordinati questa per esempio la so che è Duan andiamo ad aprire per farvi vedere a voi che è Duan quello che va a destra è di Barros chiudo già i CAD perché ormai con il CAD non faccio più niente almeno il computer si raffredda un pochettino perché la temperatura è salito un bel po' tutti questi CAD che non servono a che servono perché adesso a breve chiuderò tutto allora ho detto questa è Duan e va qua dentro questo è Barros quella nera della West che era il compagno di capirossi e questa diciamo è di nuovo Duan e questo è il dottore con la 500 NSR nastro azzurro e va qua dentro quando avrò adesso finisco non vado a completare tutte queste perché ci vuole un po' di tempo faccio questa che l'ho vista vede ci vuole a tutte le cose ci vuole se vuole fare bene ci vuole il tempo questo vado a marcare che sono quelle di rossi comunque questa è non è la NSR quella spagliata qua dentro tutto tutte quelle che sto marcando adesso sono la NSR 500 di rossi e va là dentro boom queste 7-8 foto vanno là dentro così invece questa qua non è la NSR questa è la prima rgv 250 rgv 250 rgv 211 rgv 211 per farla in breve questa mettiamo qua dentro e questa e questa vanno via di qua con il comando taglia vado indietro moto onda moto gp perché poi è cambiato a 500 eppure qua devo fare un po' di pulizia perché comunque la 500 è questa quando vado a Duan sono tutte moto Duan questa e quell'altra questo era il modello 94 che ha vinto il suo primo mondiale poi è diventata Repsol bella 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 queste foto sono anche nel gruppo e poi c'era quella di Biaggi ah di Biaggi dovevo mettere un po' in ordine questa è la mitica impennata che ha fatto tanto discute nel gruppo la mitica impennata di Bernot con la 500 con distrazione di Anna Falchi poi c'era Cadalora devo mettere qualcosa in più di Cadalora il grandissimo Luca è proprio credo che Luca se non sbaglio avrà la 250 della Honda perché in Yamaha andava forte con la 500 comunque poi c'è Capirossi che sono qua alcune foto del mitico Loris bella 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 qua Loris è è Alex Barros bella 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 la 500 o sembra un sogno guidarla sta moto vabbè ragazzi trascino l'ultima di Valentino Rossi nella sua categoria di Valentino Rossi perché a me Rossi mi è sempre piaciuto e vedete che da Rossi ne ho tantissime di sicuro qualche foto si trova fuori posto perché è tanto lavoro ragazzi voi avete visto parlando con voi e ho aggiustato qualcosa tutte queste cose vengono fatte così qua Rossi è Dairo Cato nel 2003 Rossi campione del mondo no 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 è sbagliato là c'è scritto Dairo Cato ma mi ha confuso là c'è scritto Dairo Cato che è nato nel 76 e è deceduto nel 2003 ma questa era una foto del 2001 di cui Rossi è il campione del mondo 500 e Cato della 250 con la telefonica Movistar di Buonanima Fausto Grissini invece Rossi su Honda Nostro Azzurro semi-ufficiale qua i nostri tre campioni italiani da sinistra a destra Valentino Rossi Loris Capriossi e Max Biaggi Vale e Loris su Honda Max su Yamaha 500 tutte e tre 500 bella 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 senza casco un casco belle invece qua abbiamo un po' gialli credo che non ho sbaglio Cato è un po' già su 125 e Cato su su 150 Honda del team Fausto Resini e Rossi su Nostro Azzurro Rossi e Capirossi Rossi e Bianchi Rossi Mugello bello bello vabbè ragazzi ci fermiamo e vi ringrazio e vi saluto buona giornata e vi ringrazio